Un preludio al Natale, ricco di luci, colore e sapori locali. A Ripalimosani, la settima edizione dei mercatini di Natale, ha riscosso successo ed entusiasmo da subito. Non solo artigianato e creatività nelle casette allestite in Piazza San Michele, ma anche prodotti tipici lungo la monumentale scalinata che porta alla chiesa di Santa Maria Assunta e poi cultura a 360 gradi negli spazi del Palazzo Marchesale. L'evento è stato organizzato dal Comune di Ripalimosani in collaborazione con l'Associazione Culturale Simposio Ripa. Questa tre giorni è stata concepita come occasione per valorizzare il territorio, il patrimonio artistico locale e il paesaggio. Finalmente siamo tornati a fare i mercatini, l'edizione dell'anno scorso ovviamente è saltata, in pieno rispetto al nome Covid, perché tant'è che fortunatamente siamo all'aperto, quindi non c'è ancora obbligo di mascherina e speriamo di non arrivarci. All'interno invece delle casette chi entra deve mettere la mascherina, gli espositori sono tutti muniti di Green Pass, però per un attimo, diciamo così, sempre stando attenti, però cerchiamo di mettere da parte un po' questa paura di uscire, di girare. Noi ce la mettiamo tutta per valorizzare quelle che sono le nostre risorse. L'iniziativa ha riservato anche uno spazio dedicato totalmente ai bambini, con un laboratorio di lettura e scrittura e un punto di ristoro per i più grandi, impegnati a visitare il castello. La nostra mission è proprio quella, esaltare, facendo semplicemente conoscere il nostro patrimonio artistico-culturale, sia quello materiale che immateriale. E gli spettatori che abbiamo avuto fino adesso, insomma, le persone che ci sono venute a trovare qui, sia ai molisani che di fuori, sono rimasti particolarmente colpiti per la bellezza del luogo e per la storia profonda e importante che abbiamo. Arte, cultura e storia come protagonisti assoluti per questa tre giorni a Ripalimosani.